Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. La Chiesa di Pescara Penne deve annunciare la misericordia e l'invito forte lanciato dall'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti nell'Omelia durante la Messa Crismale celebrata ieri insieme a tutto il clero diocesano e a tutto il popolo di Dio dell'Arcidiocesi. Una Chiesa, ha detto il presule, che sia attraente per i giovani e che risponda all'invito rivolto dal Papa alla CEI nel convegno di Firenze ad essere Chiesa inquieta. Nell'occasione sono stati benedetti, è stato consacrato il Sacro Crismo e sono stati benedetti gli oli santi che sono per la Chiesa e per l'umanità segni mirabili della misericordia di Dio Padre per mezzo del Figlio e nella potenza dello Spirito Santo. Durante la celebrazione sono state rinnovate anche le promesse sacerdotali e quindi l'impegno e le ordinazioni sacerdotali. Invece cambiamo argomento e passiamo alla vertenza Brioni, vertice in regione e la trattativa continua. Dopo il confronto dei giorni scorsi al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma c'è stato un nuovo appuntamento. ieri in regione alla presenza del Vice Presidente Lolli. Le istituzioni dunque si dicono al fianco dei lavoratori per valutare su quali basi affrontare la crisi. All'ordine del giorno ammortizzatori sociali e misure apposite per rilanciare il marchio. Il gruppo francese Caring, che è proprietario della Brioni, ha già annunciato l'ingaggio del nuovo direttore creativo, l'australiano Justin O'Shee, già fashion director, cioè direttore di moda, di una delle più note case appunto di vendita online. Trascorreranno anche la Pasqua in Diamattei i lavoratori della Teis da martedì in sciopero a tempo indeterminato a Chietiscalo. Dopo l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, l'azienda infatti ha confermato la volontà di dismettere il sito teatino per poi trasferire le attività inerenti alla difesa presso altri stabilimenti del gruppo. Nelle prossime ore i lavoratori chiederanno all'Arcivescovo di Chietivasto, Soeccellenza Monsignora Brunoforte, di celebrare la Santa Messa Pasquale proprio presso la sala mensa dell'azienda. Slitta il termine entro il quale cedere le quattro good bank, letteralmente buone banche, nate dopo la risoluzione di Banca Marche, Cari Ferrara, Cari Chieti e Banca Etruria. Secondo quanto riferiscono fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, citate dal quotidiano online primadanoi.it, la scadenza entro cui le autorità italiane ritengono si possa concludere il cammino di cessione può essere individuata indicativamente a settembre. L'Unione Europea aveva invece inizialmente indicato fine aprile come data, ma l'Italia e la Commissione stanno lavorando per la proroga. La provincia di Pescara rafforza il team di tecnici negli uffici del genio civile, spostando temporaneamente quattro unità del personale interno della provincia, tre architetti e un ingegnere, e integrando di molte ore l'autorizzazione a svolgere lo straordinario del personale che già vi lavora, arrivando a un'integrazione pari ad altre unità di personale. Si spera così di riuscire ad evadere le pratiche arretrate relative agli interventi edilizi, ristrutturazione o nuova costruzione, sottoposte al vaglio degli uffici, anche in previsione dell'entrata in vigore della nuova legge sismica, che presuppone una valutazione approfondita di ogni progetto. Taglio del nastro in via Rubicone per la nuova ala della scuola completata a Pescara dopo anni di attesa. Ieri il sindaco di Pescara e gli assessori all'istruzione e al bilancio hanno partecipato alla cerimonia organizzata dalla dirigente Assunta D'Emilio per consegnare a bambini e genitori il secondo piano della prima ala e altri due piani ultimati nella nuova, che verranno utilizzati come laboratori, biblioteche, spazi multimediali, sale di computer e attività didattica per la scuola primaria ospitata nella struttura. Il comune ha donato alla scuola una pianta di limoni che, tempo permettendo, verrà messa a dimora negli spazi esterni. Lettura parziale e decontestualizzata degli atti e delle intercettazioni telefoniche e ricostruzioni che non corrispondono alla reale condizione che in quei giorni si è determinata, arrivando, in taluna citazioni giornalistiche, ad essere completamente false. Lo afferma il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, sulla vicenda legata alle intercettazioni relative al mancato divieto di bagnazione della scorsa estate. Del Vecchio, fornendo anche stralci di intercettazioni e documenti, racconta di aver scoperto che le acque non fossero conformi il 23 luglio con una telefonata del dirigente Tommaso Vespasiano. Una situazione di potenziale allarme per la tutela della salute dei cittadini che risultava essere già venuta meno perché l'Arta, nelle prime ore di quella stessa giornata, il 23 luglio, ha proceduto a svolgere nuove analisi che hanno dato esito di conformità alla bagnazione e con valori bassissimi. Stop a multinazionali straniere della ristorazione e a minimarket etnici che propongono prodotti italiani a prezzi stracciati. A parlare l'ha confartigionato Pescara con il presidente Pisani. L'associazione infatti vorrebbe che il Comune, prendendo spunto da quanto fatto a Firenze, approvi una delibera che obbliga entro un anno i commercianti del centro e le attività di ristorazione a proporre almeno il 70% di prodotti abruzzesi, vietando inoltre l'apertura di nuove attività in centro, anche in caso di trasferimento. Oggi alle 9.25 la nostra emittente Radio Speranza in Blu trasmetterà in diretta sugli 87.6 MHz e sul nostro sito www.radiosperanzapescara.it la Santa Messa del Crisma presieduta da Sua Santità Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Oggi pomeriggio alle 16.50 trasmetteremo invece la Santa Messa in Cena Domini presieduta dal Papa in una struttura per migranti e rifugiati di Roma. Tutto questo in interconnessione con Radio in Blu e Radio Vaticana. E invece oggi pomeriggio alle ore 18 nella chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, presiederà la liturgia eucaristica della Santa Messa in Cena Domini durante la quale ci sarà la lavanda dei piedi per 12 operatori pastorali. Mentre domani, venerdì santo, alle ore 19, muovendo dalla chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù, ci sarà la processione del Cristo morto, l'unica processione cittadina, dato che l'arcivescovo ha dato raccomandazione di non moltiplicare le processioni del Cristo morto, ma appunto di partecipare a quest'unica processione cittadina da lui stesso presieduta a partire dalle ore 19 dalla chiesa del Sacratissimo Cuore a Pescara fino ad arrivare a quella cattedrale di San Cetteo. La processione sarà animata dalla nostra emittente Radio Speranza in Blu. E sabato alle 22.30 nella chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara l'arcivescovo presiederà la solenne Veglia Pasquale. Oggi è giovedì 24 marzo, la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Carmine Di Marco e buon anniversario di ordinazione diaconale a Sergio Diella, Erminio Fragassi, Fulvio Cicchinelli e Giancarlo Mincone. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso al mattino coperto nel pomeriggio e sereno in serata con temperature da 10 a 12 gradi e venti moderati. E nelle zone interne cielo molto nuvoloso con pioggia al mattino coperto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio nuvoloso nel resto del pomeriggio e coperto in serata con temperature da 6 a 9 gradi e venti moderati. Il mare è previsto mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.